E' fantastico perché per esempio in una scena in cui dovremmo fare una confessione a Kim, ok, cominciamo Chuck, buona la prima, si c'era tutto, si avvicina a Placido e fa, senti Filippo che lo guarda qua, ci manca qualcosa, non so cosa, a un certo punto provo a fare un'unica, dunque, a questo punto penso che c'entra, da una come se c'entra cosa, fra i denti, dico, va bene, ero lì per il giorno, noi facciamo un altro Chuck, riparto, mangiato un'unica, literalmente, faccio questa asimorfia, da così a così, allora, e io sento lì per la giornata, e mi finiscono così, una storia vale, diventa vera, quale dovrebbe essere raccontata, sti cazzi che lo esco, Noi non abbiamo fatto un documentario sulla maniera assoluta, abbiamo fatto un film, una riflessione che racconta la storia di un marito Io avevo un problema molto preciso che era quello del milanese, era cento milanese, e poi ho cercato di far sì che tutta la preparazione, anche una fase della scrittura, avvenisse a Milano, di modo che io vissi questo suono, agli orecchi e faccio un pezzo, ma che io non ti sembra, però chiedo per favore, faccio un pezzo, La formosina che c'è adesso è molto diversa, da quella di 30 anni fa o 40 anni fa, ma sono passati tanti anni, anche a un certo punto, anche con lo scenografo, durante i sopralluoli dicevamo, ma non è appena venire a girare a Milano Io ho fatto un po' di foto, perché io ho un po' la fissera di una foto di un po' di un po' di una foto di un po' di un po' di una foto di un po' di un po' di un po' di un po' di una cosa, non lo so, ne ho pensato che sia una foto, una cosa altra, se... Grazie a tutti.